Quello che è venuto fuori è un allarme che la sensazione si ha sia da parte nostra sia da parte delle organizzazioni sindacali che si ha leggendo la stampa, le notizie che arrivano, cioè di una vertenza che non è unica ma si sta spacchettando. C'è la Puglia viaggia per conto suo, la Regione Abruzzo viaggia per conto suo e chiaramente c'è una specie di scarica di responsabilità di questo crack tutto nei confronti dell'Abruzzo e di quella fusione che c'è stata con Caripe e con Tercas. Non è così perché le difficoltà della banca si conoscono, d'altronde le relazioni della Banca d'Italia erano chiare. Noi non dobbiamo permettere che ci sia questo spacchettamento perché dallo spacchettamento la Regione Abruzzo esce penalizzata per cui chiederemo alle forze politiche abruzzesi di mantenere sindacali, di mantenere questa vertenza unica. attendiamo l'incontro con i commissari e poi porremo in essere una serie di azioni comuni che riguardano non solo i sindacati professionali di categoria ma che riguardano il mondo imprenditoriale a 360 gradi così come il mondo politico perché l'Abruzzo deve essere diffuso nella sua intierezza. Qui parliamo di 90 sportelli, molti nelle zone interne, parliamo di 800 dipendenti e la Regione Puglia non è che ha molti dipendenti in più rispetto a noi, quindi lo spacchettamento ci penalizzerebbe notevolmente. Lei ha provato ad avere un'interlocuzione con l'assessore regionale della Puglia? L'interlocuzione non c'è stata ancora nei termini che ci aspettavamo, cioè come spesso accade nelle altre vertenze che ci sia ampia collaborazione. È come se ognuno si dovesse vedere i fatti in casa propria ma non è così perché per noi è un'avvertenza unica che deve essere risolta a livello politico e nazionale a livello unico.